Ci sono giorni in cui non vedi l'ora che sia notte. È normale quando hai provato l'originale scaldasonno adatto di Imetec. Non vedi l'ora di creare il calore ideale in un attimo. E dormire sonni tranquilli grazie all'innovativa tecnologia di Imetec. Quando rientri da una fredda giornata, non vedi l'ora che arrivi la notte. Per farti coccolare da scaldasonno in caldo cotone. Fatto con cura, fatto in Italia. Con il nuovo software intelligente adatto, è semplice scaldare i tuoi sogni per il tempo che vuoi tu. E per godere di quell'avvolgente calore in ogni momento della giornata, prova i nuovi Playder riscaldabili adatto di Imetec. Tessuti ultramorbidi. Nuovi scaldasonno e Playder riscaldabili adatto. Non vedi l'ora di un caldo a braccio. Scopri di più su Imetec.com. Imetec l'Italia dell'Italia.